Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti I nomi dei parlamentari che rappresenteranno la nostra regione nella imminente nuova consigliatura. Sono i temi principali che verranno trattati sulle pagine delle testate locali e nazionali. Noi rivedremo anche alcuni dei servizi confezionati dal TG6 sul fronte sport. Chiaramente ieri è stata la giornata della presentazione del nuovo allenatore del Pescara Massimo Epifani e anche del ritorno di Giorgio Repetto nei quadri dirigenziali del Delfino come neodirettore tecnico. Andiamo con le prime locali attraverso intanto il centro nella edizione di Pescara. Ecco l'apertura, rischio sismico, ponti sotto esame, Pescara. La provincia studia la sicurezza di 63 infrastrutture strategiche. Poi ancora andando sotto la testata parte l'assalto alla regione. 5 Stelle e centrodestra preparano il piano per la sostituzione di D'Alfonso. Poi ancora numeri in Abruzzo. Ecco la mappa con i risultati comune per comune e per quanto riguarda gli scenari nazionali di Maio deciso senza di noi la legislatura non parte. In basso ancora vediamo la foto notizia. Epifani, Pescara insieme faremo grandi cose. L'allenatore si presenta sabato il debutto con il Parma. Poi ancora di spalla la bimba malata, l'Abruzzo, spera e prega per la piccola Noemi. Poi il caso di Giulianova, omicidio della pittrice, arrestati l'ex e il figlio. Rogo in via Vespucci incendiano un negozio, nei guai due pescaresi. Poi sempre un altro richiamo, la protesta degli studenti a Pescara. Mancano i vagoni, il viaggio si fa in piedi. In basso il buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, a stori e quella maglietta del ricordo. Avanti e siamo all'edizione di Chieti del centro. Pittrice morta, arrestati ex marito e figlio, omicidio della donna di Chieti, santoleri incastrati da una telecamera. Poi ancora la foto notizia a lezione. I cuochi contadini di campagna amica. Arriva a Lanciano il primo corso da agri-chef e poi a Chieti, da fuoco ai cassonetti, in manette. Un cinquantenne a vasto, iniziative nel centro storico, musica e feste contro i furti e atti vandalici. Poi a Lanciano la famiglia Maio cede una delle aziende. Avanti con l'edizione terramana del centro, l'apertura sempre sull'omicidio della pittrice Renata Rapposelli, omicidio arrestati i santoleri, ex marito e figlio della pittrice accusati di averla uccisa a Giulianova. E poi la foto notizia a Montorio, enorme frana di massi sulla provinciale 42 e a Teramo il fiume minaccia la strada di Carapollo. E poi i richiami di cronaca, giro di spaccio a Roseto, cocaina nelle residenze in tre a processo. Giulianova, il caso Orsini 63, tenta di occupare un alloggio arrestato. E poi sulla statale 16, Tortoreto, arrivano Rotonda e semaforo. E ora l'edizione aquilana del centro che apre così sotto servizi. Cambiano i percorsi all'Aquila, si terrà conto dei commercianti e dei residenti che sono rientrati. E poi la foto notizia a Masso sulla strada tra Scanno e Passo Godi, sfiorata la tragedia, popolazione in allarme. Ad Avezzano, imprenditore evasore, parte maxi sequestro. All'Aquila, Morosi, progetto a case e colerate per pagare. E poi il caso di Giulianova, omicidio della pittrice. Incella, ex marito e figlio. Ed ora siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo. D'Alfonso sceglie il Senato. Questa l'apertura del messaggero. Il governatore intenzionato a dar corso alla legge, presentandosi a Palazzo Madama, le richieste di dimissioni immediate dalla regione, posizione estemporanea di relitti. Sotto la testata, Teramo, Maxi Frana si abbatte sulla strada a Montorio. E poi sul fronte Pescara Calcio, Epifani e Repetto si prendono la squadra. E poi la verità sui conti del Delfino. I bilanci finiscono in tribunale. Rilevate dieci voci critiche nel rapporto del perito che ha esaminato gli atti. Dall'attivo previsto al rosso di 4,7 milioni nel 2015. Il caso più eclatante. E poi di spalla quei dossier che non possono aspettare i tempi della politica. Territorio più debole nel rebus del dopo elezioni. Economia a un bivio. La fotonotizia con l'omicidio Rapposelli. Pittrice uccisa in carcere marito e figlio. L'auto filmata a Tolentino forse portava il corpo. Sempre in taglio medio la cronaca Blitz antimigranti. Sgomberate le tende nella Pineta. Montesivano il comune cerca di scoraggiare i nuovi insediamenti degli extracomunitari. In basso Teramo, Bonni e Clyde in gioielleria. Proseguiamo. Siamo ora alla prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Che apre anche in questo caso con l'omicidio di Renata Rapposelli. Di marito e figlio arrestati per omicidio. Giallo della Pittrice per i carabinieri. La donna è stata uccisa a Giulianova e poi portata a Tolentino. Sotto la testata Montorio Alvomano. Maxi Frana blocca la strada per Santa Lucia. A Roseto degli Abruzzi ha processo per i festini nel Residence. Poi la fotonotizia. Ecco i 21 parlamentari abruzzesi eletti tra Camera e Senato. Con le foto di tutti i parlamentari che rappresenteranno la nostra regione. a Montecitorio e a Palazzo Madama. Tortoretto, tassa di soggiorno solo d'estate. Poi per il calcio di Serie C, Rieccoventola. Il Teramo ritrova il suo pendolino. Lasciamo le prime pagine delle testate locali. E possiamo andare a leggere le prime pagine delle testate nazionali. Il Corriere della Sera apre con la politica, ma un po' tutte le testate lo fanno. Ed è anche ovvio di questi tempi. Il Movimento 5 Stelle e Lega puntano sulla crisi del PD. Di Maio parliamo con tutti. Salvini c'è interesse a sinistra. I Dem spaccati. Calenda si iscrive. Dopo il voto al via le manovre per il futuro governo. Renzi e i suoi. Chi vuole appoggiare i 5 Stelle lo dica in direzione. E poi sotto la testata il consigliere economico Dazi su scontro negli Stati Uniti con l'Ascia Trump. E poi l'intervista a Silvio Berlusconi in carico al centro-destra. Io garante dell'alleanza. La fotonotizia. Kim e la cena della svolta pronti a bloccare il nucleare. Il leader della Nord Corea apre il dialogo con gli Stati Uniti e chiede garanzie per il regime. Avanti e siamo sulla prima pagina di Repubblica. La tentazione Di Maio. PD in rivolta. Noti al Movimento 5 Stelle. Le parole di Di Maio. Vogliamo fare un governo che trovi un'intesa sui contenuti. Quelle di Carlo Calenda. Non serve un altro partito ma bisogna risollevare il PD. E poi quelle di Matteo Renzi, segretario dimissionario del PD. Mai un accordo con i grillini. Chi lo vuole lo dica in direzione. Poi ancora Renzi sotto assedio. Zanda. Subito Martina Reggente. E Gentiloni lancia Calenda. Berlusconi. Voglio la rivincita. Intervista a Maroni. Ora alleanza tra noi e la sinistra. E poi Di Maio ai partiti dico è arrivato il tempo di voltare pagina. Avanti ancora e siamo sul fatto quotidiano. Il carro dei vincitori. Ora sono tutti grillini. Marchionne scarica Renzi e apre i 5 Stelle. C'è di peggio. Boccia di Confindustria. Niente paura. Scalfari. Di Maio. La nuova sinistra. L'establishment benedice l'esecutivo con gli ex barbari. E poi in basso da una parte il lato Dem. Tutti a bordo di Calenda per fare la pelle a Renzi e company. Il leader lunedì vuole snobbare la direzione. Vado a sciare. Sul fronte centrodestra Berlusconi prigioniero dei salvinisti. Tenta di salvare Mediaset. La linea adesso la detta. Solo il leghista. Avanti siamo sul messaggero. Ecco l'apertura. Governo. Salvini. Apre a sinistra. Offerte di alleanza ai PD spaccati. Il leader leghista. Cercheremo di raccogliere queste forze. Di Maio. Dialoghiamo con il partito di Renzi. Ma senza di lui. Boccia. I grillini. Non fanno paura. Lo sport sotto la testata. L'autopsia. Storia aveva un cuore matto. Ha rallentato fino a fermarsi. Il personaggio sul fronte Roma. La Roma di Undeer. Di Francesco punterà su di lui per battere il toro. Poi in taglio medio. La fotonotizia svolta di Kim. Stop al nucleare. Trattiamo. Apertura della Corea del Nord. Vertice con Seul. Appello agli Stati Uniti. I mercati e l'Italia. I due mesi di tregua sul fattore rischio. Gli investitori internazionali vogliono chiarezza. Tempo fino a maggio. Bene Piazza Affari spread giù. E poi sotto in basso di pagina Firenze l'assalto dei senegalesi con il pretesto dell'odio razzista. Spinte e insulti al sindaco dopo il delitto di un folle. Ora il manifesto che apre così quando calenda il sol nel PD in Frantù. Mi spunta la carta Carlo Calenda. Il montiano di ferro che vuole la tessera. Mi scrivo, risolleviamo il partito, al Nazareno Renzi sfida le correnti. Chi vuole andare al governo con i 5 stelle lo dica in direzione da Di Maio. Dieci punti per i responsabili. E poi sotto la testata largo agli uomini delle nuove camere. Ecco qui. E ora la prima pagina di Libero. Che bello senza governo. Troppi vincitori. Nessun vincitore. Ormai è una regola in Europa. Dove non c'è un esecutivo l'economia cresce. Vedi Germania, Olanda e Spagna. L'Istat infatti prospetta una fase espansiva per l'Italia. E Marchionne se ne frega del Movimento 5 Stelle. Investiremo lo stesso. E poi la fotonotizia. Il segretario le ha azzeccate tutte. Salvini ha indovinato a puntare sul sud. E poi ancora scendendo sotto la fotonotizia. Il PD perde perché non pensa alla sua gente. Il partito è diventato salottiero e trascura i problemi reali del paese. Siamo al mattino. L'apertura. Sedio al PD. Calenda in campo. 5 Stelle e Salvini chiedono l'appoggio. Renzi è ai suoi. Chi vuole intese. Lo dica in direzione. Il ministro si iscrive al partito. Dobbiamo risollevarlo. Confindustria. I 5 Stelle non fanno paura. Ma il Jobs Act non si tocca. E poi in basso la fotonotizia di Maio a Pomigliano via i Vitalizi. La prima pagina del sole 24 ore a Lega e Movimento 5 Stelle. L'Italia dei distretti boccia. I 5 Stelle non fanno paura. Marchionne abbiamo visto di peggio. Postumi della recessione. Problemi risolti. Infrastrutture carenti. Ecco perché i poli industriali hanno cambiato la geografia. politica. E poi di spalla Elliot entra in team. Sfida Vivendi via i loro 5 consiglieri. Fondo USA per ora sotto il 3%. E poi la fotonotizia. La svolta di Pyongyang sul nucleare. Trump è possibilista. In aprile incontro a Panmunyon tra i leader del Nord e del Sud. La prima pagina del tempo. Pirozzi mi ha fatto perdere. Zingaretti lo ricompenserà. Parla Parisi. Ha giocato sporco. Chiaramente il riferimento è alle regionali in Lazio. Ha giocato sporco. I suoi voti decisivi contro di noi. Parla appunto lo sconfitto Parisi. Il sindaco di Amatrice è punito anche dagli elettori terremotati. Poi Salvini apre la sinistra. La carica del Cavaliere. Il resto è il regista del centrodestra. E poi c'è questa fotonotizia in romanesco. Ma tipo se il partito chiude come funziona? Meritate a quota? Direbbe Calenda. E poi la risposta di Gentiloglio. Sai che non lo so. Devo chiedere in segreteria. Siamo a posto. Scrive il tempo. Calenda si iscrive al PD. Avanti con la stampa. Ecco l'apertura. Di Maio non trova alleati a sinistra per il governo 5 Stelle. In carico pieno. Nel PD c'è chi valuta l'appoggio esterno. Il contropiano di Salvini. Giù i toni per attrarre i moderati. E poi alcune interviste della stampa a Mario Monti. L'ex capo del governo. Flat tax e reddito applicati assieme. Sono una sciagura. Steve Bannon ora l'internazionale sovranista. L'euro non sopravviverà. E poi Bernard Guetta anche da voi soffia il vento della protesta. La fotonotizia anche in questo caso sul fronte Corea del Nord. Corea il dittatore offre il suo arsenale. Il leader del Nord Kim Jong-un apre sul disarmo nucleare. Voglio un dialogo con gli Stati Uniti. La verità. Perso il contatto con la realtà. Il bullo delle nevi. Renzi ostacola qualsiasi trattativa sulla formazione del governo. E poi dice che non parteciperà alle consultazioni con Mattarella. Vado a sciare. Intanto la verità scopre che sua sorella è stata fermata a un impianto di risalita. Mentre utilizzava lo skip pass dell'ex premier espediente vietato. E poi ancora Minniti approfitta dello stallo post-turne. Proroga i vertici dei servizi segreti. Salvini a caccia di voti. Prova a sedurre Grillini e Demb scavalcando i loro leader. Infine Rosatellum da matti. Movimento 5 Stelle ha più seggi che candidati. 5 Stelle fanno il pieno in Sicilia. Ma alcuni eletti dovranno pescarli in altre regioni. E così i risultati definitivi slittano. Il giornale PD in vendita a pezzi. Il mercato dei 5 Stelle di mai offre le poltrone Volta Gabbana anti-Renziani. Diceva a casa senza stipendio chi cambia casacca. E poi l'editoriale di Nicola Porro. Governo da incubo di sinistra e 5 Stelle. Provateci pure. Ci sarà da ridere la fotonotizia. Imprenditore e antirazzista. I Wobi. Primo senatore nero. E il vero Jus Soli della Lega. In basso. Centrodestra Unito al Quirinale. Berlusconi. Io sarò il regista. Il secolo d'Italia. PD in ginocchio. Questa è l'apertura. Infine l'avvenire. Movimento 5 Stelle e Lega. Alleanze solo sui programmi. Mattarella neutrale. I partiti diano la soluzione. Prime prove di difficile confronto tra i poli. Di Maio e Salvini offrono intese su punti specifici. Renzi al PD. Chi vuole allearsi lo dica. Lasciamo le testate nazionali. Torniamo alle locali. Ripartiamo dal centro. Ecco qui. Siamo a pagina 9. Primato dei 5 Stelle. Questa è la cartina abruzzese. Dopo il voto. Primato dei 5 Stelle in 172 città e paesi. Risultati dei partiti nei collegi proporzionali della Camera. Il centro-destra vince in 120 località. Il centro-sinistra solo in 13. E qui come vediamo ci sono tante macchie gialle che rappresentano il Movimento 5 Stelle. Diverse anche blu che rappresentano il centro-destra. E poi alcune macchioline davvero poche che sono quelle rosse che rappresentano il centro-sinistra. Allora vediamo il servizio sui parlamentari abruzzesi e poi sfogliamo anche le relative pagine del centro. E il giallo dei pentastellati. Il colore dominante della pattuglia abruzzese che varcherà le porte di Camera dei Deputati e Senato della Repubblica. Frutto del 40% raccolto in Abruzzo dal Movimento fondato da Beppe Grillo. In totale i parlamentari a espressione del voto in regione sono 22, 14 deputati e 7 senatori. Di questi ben 11 sono pentastellati. 3 sono del PD, 3 della Lega e di Forza Italia e 1 di noi con l'Italia Udc. Tornano a Roma per il loro secondo e ultimo mandato, almeno come scritto nel regolamento interno dei 5 Stelle, Gianluca Vacca, Daniele Delgrosso e Andrea Colletti alla Camera, oltre a Gianluca Castaldi al Senato. Tra i volti nuovi dei 5 Stelle tante donne. Alla Camera eletti Fabio Berardini, già consigliere comunale di Teramo, Valentina Corneli, Carmela Grippa, Daniela Torto e Antonio Zennaro. Per il Senato invece è stato eletto il giornalista e già direttore del centro Primo Di Nicola, oltre a Gabriella Di Girolamo. Nel Partito Democratico, travolti dalla debacle, tanti nomi eccellenti come quello di Sandro Mariani o dell'ex sindaco dell'Aquila Massimo Cialente. Al Senato entrerà il capolista del proporzionale, cioè il presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso, che ieri sera, in un collegamento telefonico al Tg6, ha lasciato intendere che accetterà l'incarico a Roma, però aspettando per l'ufficializzazione della decisione l'ultimo minuto utile prima della decadenza per incompatibilità, così come prevede la legge. Se le cose andranno in questo modo, a breve gli elettori abruzzesi saranno chiamati a rinnovare il Consiglio regionale, anche perché, a causa della sconfitta pesante, le fibrillazioni all'interno della maggioranza di centrosinistra non mancano, con l'invito al governatore a dare le dimissioni, che ieri è arrivato da più parti. Alla Camera invece, sempre nel Partito Democratico, sono stati eletti Camillo D'Alessandro e Stefania Pezzopane. Ancora nel centrosinistra fa rumore la bocciatura del sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, impegnata con la lista civica popolare della Lorenzin. Nel campo del centrodestra, invece, il boom della Lega si trasforma in una rappresentanza inedita per l'Abruzzo. Alla Camera proda il segretario regionale Giuseppe Belachioma, oltre a Luigi Deramo. Al Senato, invece, ci sarà Alberto Bagnai. Forza Italia è presente alla Camera con Antonio Martino e Gianfranco Rotondi. Al Senato, con il coordinatore regionale azzurro, Nazario Pagano. Anche in Forza Italia, però, ci sono state delle esclusioni rumorose, come quelle di Paola Pelino, Emilia De Matteo, Antonella Di Nino e Tiziana Magnacca. Unico rappresentante di noi con l'Italia Udc in Parlamento è Gaetano Quagliariello, al Senato. Non ce l'ha fatta, invece, il segretario regionale del partito, Enrico Di Giuseppe Antonio, che ha perso nell'uninominale per la Camera dei Deputati. Fuori dal Parlamento tutti gli altri partiti, a iniziare da liberi e uguali, per proseguire con potere al popolo e con il partito comunista, con Casa Pound, Italia e gli italiani, Popolo della Famiglia, Dieci Volte Meglio, e Partito del Valore Umano. Nessuno di questi, infatti, è riuscito a superare la soglia di sbarramento del 3%. Ed ecco qua, sul centro, a pagina 14, intanto tutto il fronte, in questa pagina, una parte, a dire la verità, dei parlamentari abruzzesi, l'altra parte, eccola qui, tutti coloro che rappresenteranno la nostra regione nei due rami del Parlamento. Leggiamo poi il titolo della pagina, l'apertura della pagina. Ora, le grandi manovre per conquistare la regione. Movimento 5 Stelle da oggi l'attacco subito al voto, anche Forza Italia scende in campo. Oggi, peraltro, è annunciata una conferenza stampa, in mattinata, proprio dei 5 Stelle, con l'obiettivo puntato sulla regione. Cambia nella notte la mappa degli eletti. Forza Italia perde un seggio, due volte nuovi nei 5 Stelle e nella Lega. Marcozzi e gli altri pentastellati spingono il governatore e il senatore a dimettersi per andare alle elezioni anticipate. Appunto, in basso, pressing su D'Alfonso, che però non si dimette. Il governatore, anche se volessi, non posso farlo. E scoppia la polemica con Colletti sugli appalti regionali. D'Alessandro avverte il deputato pentastellato, rinunci all'immunità e si faccia giudicare sulle sue accuse. Avanti ancora, Pelino dice addio al Parlamento, esclusa in base al calcolo dei resti. Lei si chiude nel silenzio. La difende il forzista Rotondi, che commenta così la sua esclusione. Una ingiustizia. Poi, Deramo, il leghista Aquilano, subentra all'eletta Bordonari. Berardini, il 5 Stelle Terramano, che soffia il seggio a Forza Italia. Avanti, siamo alle pagine di Pescare. Infrastrutture, test di sicurezza sismica. 63 ponti sotto controllo. La provincia investe 450 mila euro per valutare il rischio in caso di terremoto. Al termine degli accertamenti saranno definiti lavori da realizzare e costi. Vediamo il servizio. Voglio dire, i terremoti, i sismi, ormai sappiamo che sono all'ordine del giorno. Quindi è stata, diciamo così, un'azione voluta dalla regione e dalla provincia, proprio in presenza anche di queste situazioni, che vanno coniugate anche con la vetustà dei ponti stessi. Quindi è stata un'azione voluta in considerazione di entrambe queste valutazioni. Avete segnalazioni di criticità per qualche ponte? Non in particolare. Quello che posso dire è che noi stiamo iniziando subito. Cioè due lotti, siccome è un lavoro che deve essere fatto a quattro mani, perché gli studi incaricati devono fare queste attività in collaborazione anche con gli uffici provinciali, i quali uffici provinciali devono consegnare agli studi stessi tutto il materiale storico, la vita di questi ponti. Inizialmente si svolgeranno delle indagini, diciamo, conoscitive dei ponti, quindi sia dei rilievi geometrici che prove di laboratorio sui campioni di materiali che compongono il ponte e successivamente verranno analizzati, grazie a programmi ad hoc e studi ad hoc, la geometria dei ponti con le caratteristiche dei materiali analizzati durante le indagini. A quel punto si produrranno delle relazioni che sintetizzano i risultati ottenuti e che quindi indichino degli obiettivi a medio e lungo termine per questi manufatti che andremo a studiare. Sempre sul centro a pagina 21, la Chiavaroli si sfila, non correrò da sindaco in arrivo regionale e comunali di Pescara. I non eletti studiano come riscattarsi il sottosegretario alla giustizia, neppure Palazzo Silone è tra i miei obiettivi. Poi altre riflessioni da Antonella Allegrino, ora serve il confronto, vediamo che succede con D'Alfonso, da Carlo Masci era necessario metterci la faccia a prescindere dal risultato e da Guarino Testa non ho ancora deciso né per il Comune né per la Regione. Proseguiamo con la cronaca, incendio in via Vespucci, appiccano il rogo al negozio, denunciati nei guai 52enne e 45enne per i carabinieri sono stati loro a incendiare l'ortofrutta di un egiziano per motivi di antipatia. E poi freccia bianca corto, studenti costretti a viaggiare in piedi, mancano vagoni, protesta di ragazzi e genitori alla stazione, abbiamo viaggiato al buio e al freddo fino a Ferrara. Avanti ancora AIRC, il futuro della ricerca comincia nelle scuole, campagna di prevenzione. Oggi è l'alberghiero appuntamento con l'associazione che lotta contro il cancro, docenti e dirigenti di istituto a lezione di salute e benessere da biologi e ricercatori. E poi in taglio medio, tumori al seno, domani controlli gratuiti, iniziativa dell'Avis in occasione della festa della donna, le visite nella sede di Corso Vittorio X. Dopo lavoro ferroviario in via De Gasperi, trasloco per la nuova area, di risulta individuato un terreno dove ospitare le strutture sportive. E poi ancora, andiamo avanti, siamo alle pagine di Montesivano, ambiente cemento, inutile gettare soldi nel fiume Saline senza fare vigilanza. Onlus ecologista rilancia il progetto delle guardie comunali, presentato alcuni mesi fa in municipio alla giunta Maragno. E poi ancora in basso, mostra dei presepi, con il cuore a Rigopiano, saranno donate alle famiglie delle vittime i contributi raccolti durante l'ultima rassegna natalizia. Avanti, siamo in provincia, sempre di Pescara, o mi dai soldi o gli faccio male. Arrestato di nuovo dopo il rogo a Moscufo, torna in carcere il padroncino che aveva piccato il fuoco al capanone della DAG, dopo la scarcerazione si è rifatto vivo con minacce estorsive per il titolare che l'aveva allontanato. Siamo a Francavilla, pagina 28, accelerati i lavori per le nuove scogliere, l'intervento da realizzare prima dell'estate non ha bisogno della valutazione di impatto ambientale. Pagina 29, Val Pescara, cantieri nelle strade, dalla primavera per rifare l'asfalto, a Popoli, ecco tutte le vie del centro cittadino che saranno rimesse in ordine. Parte un appalto in tre lotti fino al 2020. La pagina di Chieti, ancora la politica, dopo le elezioni ora il Movimento 5 Stelle prepara l'assalto al comune. I grillini sono la prima forza politica in città con il 39% via alle assemblee pubbliche per la scelta del candidato. Tra i papabili c'è il consigliere Argenio, ma lui frena, niente scontato. Di certo prevarrà la logica di scelta democratica e poi c'è un gruppo da formare. La lista non avrà alleati. Sull'onda di Di Maio ci sarà un'apertura ai rappresentanti della società civile. E in basso il PD lancia messaggi su Facebook. Zappa l'orto, serve una discussione interna. Marzoli beffati dalle fake news. E a Guardia Grele, l'Abruzzo spera per la piccola Noemi. La bimba di Guardia Grele in rianimazione a Roma per le complicanze dell'influenza. Il padre è forte, preghiamo per lei. A Ortona, l'ecoisola di Fonte Grande, resta vicino alla scuola. Il consiglio respinge la richiesta di spostare l'area di raccolta dei rifiuti. Castiglione, luogo non ideale ma a tutti i requisiti previsti dalla legge. Le pagine aquilane. I sottoservizi cambiano percorso. Il mese di fermo allunga i tempi. Frattale domani l'incontro con la GSA per l'intervento nelle zone abitate. Non finiremo a dicembre. L'impresa chiederà le riserve economiche. Il blocco per i ritrovamenti ci è costato il 50% di perdite. Poi il punto di vista dei commercianti. Ora bisogna vigilare pettine. Speriamo che i politici, come ci hanno garantito, facciano rispertare i tempi del cantiere. Siamo alla pagina di Avezzano. false fatturazioni, evade il fisco e scatta il maxi sequestro. Nei guai un imprenditore, Dile Marsicano, la Guardia di Finanza, gli ha bloccato conti e beni per 340 mila euro. Poi la crisi al comune di Avezzano. De Angelis chiama Udc e lega. Le trattative, Cipolloni e Cascere, puntano al ruolo di vice sindaco. A Scanno, Sannite, si stacca un masso, un'altra tragedia sfiorata. Il fatto è accaduto l'altra notte lungo la strada che collega Scanno a Passo Godi. Necessario l'intervento delle ruspe, ma per i residenti è di nuovo allarme. Le pagine di Teramo, l'omicidio della pittrice, la svolta, arrestati i santoleri, una telecamera li incastra, la procura, il corpo della donna, per tre giorni e è rimasto nell'auto. E poi, ancora nella pagina successiva, Renata era alla ricerca solo un po' di serenità. Parla l'avvocato Augello, che l'aveva seguita nella causa di separazione. Tutto assurdo. Stava ricominciando a vivere. Non meritava questa fine. A tal proposito, c'è anche un articolo nell'edizione odierna del Corriere della Sera, firma Nicola Catenaro, proprio sull'omicidio di Renata Rapposelli. Ecco qui la pittrice uccisa dall'ex e dal figlio per gli assegni di mantenimento. A Macerata, la donna scomparsa il 9 ottobre. I PM strangolata o avvelenata. L'ultimo litigio, l'ultimo scontro col figlio che nutriva Astio verso la madre, sin dall'adolescenza. Direi che possiamo chiudere qui con la prima parte di Mattino 6. Ora le notizie sul fronte meteo, poi la pubblicità e poi la seconda parte di Mattino 6. Ben ritrovati con Mattino 6. La seconda parte la apriamo con il messaggero Abruzzo. Il dopo elezioni d'Alfonso darò corso alla procedura di legge. Il governatore appare determinato a lasciare la regione per il Senato. richiesta di dimissioni immediate, posizioni estemporanee di relitti. Poi in queste grafiche troviamo tutte le immagini dei parlamentari eletti in Abruzzo. Secondo i politici e lui vicini, il Presidente sarebbe attratto dall'idea di fare opposizione. Poi abbiamo visto l'articolo che iniziava già dalla prima pagina, dossier che non possono attendere, l'articolo di Stefano Cianciotta, un territorio più debole alle prese con temi economici di importanza fondamentale. Siamo alle pagine di Pescara con quelle che sono le conseguenze dell'ultimo voto, del voto alle politiche. Rischio assedio per Alessandrini. Dopo i risultati delle politiche di centrodestra, il Movimento 5 Stelle è pronti a dare l'assalto a un PD al minimo storico del 16,42%. In città le due opposizioni divise da tre punti scarsi è partita la corsa per le prossime elezioni comunali. Ecco i nomi in ballo. Il primo effetto e l'ultimatum alla Giunta in carica non hanno più consenso, niente scelte importanti su aree di risulta e stadio. I pentastellati lavorano alle squadre per Palazzo di Città e Regione. Gli uscenti in pole position. Antonelli e Sospiri, i primi nomi di Forza Italia, il sindaco rilancia. Andiamo avanti fino alla fine. In basso, su Viale Marconi, il primo strappo. Pagnanelli contro Civitarese. Una bizzarra idea dell'assessore. Il presidente dell'Aula appoggia la Fondo di Regneri contro il senso unico. Poi ancora, siamo a pagina 45. Qui sul fronte Pescara Calcio, ma sul fronte anche dell'inchiesta che è stata aperta dopo le denunce del socio di minoranza Danilo Iannascoli. Biglietti e cessioni, la verità sui bilanci del Pescara Calcio. Dieci voci critiche nel rapporto del perito del Tribunale delle imprese dall'attivo previsto al rosso di 4,7 milioni. I conti del 2015 sono il caso più eclatante. La consulenza disposta dopo il ricorso di Iannascoli finirà sul tavolo della Procura. In taglio medio leggiamo Passa a Mauro Angelucci, il timone della Camera di Commercio Unica. Oggi l'elezione del successore di Daniele Becci, garante del patto tra Confindustria e altre categorie. Proseguiamo e siamo sempre sulle pagine di Pescara, qui più precisamente a Montesilvano. Camping dei disperati nella Pineta. Un'altra operazione antibivacco della Polizia Municipale, sgomberata una tenda con 5 stagneri clandestini. L'area già bonificata dagli operatori di Formula Ambiente aumenta il rischio di incendi per via delle scorte di carbone. Accampamenti sempre più frequenti a Santa Filomena. Cozzi, pericoli per la sicurezza e danni di immagine. Poi in basso, rogo nel negozio di frutta, denunciati due piromani. Vanno per arrestarlo e trovano droga in casa. Questo appunto per la cronaca. Ora siamo alle pagine dell'Aquila. La rinascita della cattedrale è finalmente presentato. Il progetto nei prossimi giorni sarà inviato per l'approvazione alla soprintendenza. I lavori potrebbero partire già entro l'estate se non ci saranno intoppi. Il Duomo giace senza nessuna copertura sotto le intemperie ormai da quasi nove anni. Poi ancora in basso, festa della donna, tra mostre, riflessioni ed eventi. Appuntamento ovviamente per domani, giovedì 8 marzo. Poi ancora le riflessioni post voto, ma in ottica aquilana. Gli eletti Pezzopane e Deramo. Ecco l'Aquila a Roma. La senatrice riesce a resistere al debacle del centrosinistra. Il salviniano sfrutta l'exploit cittadino del collegio più leghista del sud Italia. La Democrat, bene il territorio rappresentato in questo modo. L'assessore festeggia, ma resta in silenzio. Poi in taglio medio, caos nel centrosinistra. Ora cambiamento reale, pronti a occupare le sedi. Piero Di Stefano se la prende con i camaleonti. Scatta il Rederazionem nel partito. Poi in basso, fedele Movimento 5 Stelle, grandioso. Biondi, premio all'amministrazione. Il primo cittadino esalta il successo. L'Iris protagonista anche grazie ai non aquilani. Proseguiamo. Siamo in Marsica. Marsica senza eletti. Ora tutti recriminano. C'è chi rimpiange i tempi di piccone. Chi va alla ricerca dei voti del Partito Democratico, dei fratelli di Pangrazio. Sul fronte comunale, l'altra sera, mega riunione in un municipio al capezzale di De Angelis. Poste le condizioni per le alleanze. Il primo cittadino oggi si dimette e per ora non c'è maggioranza che lo possa confermare. Intanto fa rumore la mancata riconferma in Parlamento, chiaramente, di Paola Pelino. E avanti con le pagine di Chieti e Provincia. Sul messaggero Abruzzo, sei incendi notturni in centro. Il piromane finisce in manette. Fuoco e paura tra via Cesare De Lollis e via Valignani. Castonetti inceneriti, arrestato in flagranza il responsabile della scia di Roghi. E un cinquantenne teatino, fermato dalla polizia prima di entrare di nuovo in azione. Forse aveva bevuto, rischia la condanna fino a due anni. Di spalla, donne, ambulatori aperti, visite gratuite e prevenzione. Tante iniziative per la salute negli ospedali con Bollino Rosa. Appello del DG Flacco. Poi in basso, estorsione. Zio e nipote condannati a 10 e 6 anni di carcere. Processo a sabatino. Ammesse le prove. Udienza tecnica per i testimoni. Siamo a Lanciano con le dichiarazioni di un neoparlamentare. D'Alessandro pronti a ripartire. Il consigliere regionale delegato ai trasporti ha saputo soltanto ieri mattina di essere stato eletto alla Camera. Ha risultato frutto della protesta, ma il PD non si farà da parte. Noi democrat andremo avanti con determinazione ed energia. Il territorio sarà rappresentato in Parlamento anche dai grillini, Grippa e Castaldi. E in basso, vasto pontile della Marina. I lavori al palo. Ieri è stata fissata la data dell'inaugurazione, ma ci sono ancora le transenne e le reti di plastica. la pagina, o meglio, le pagine di Teramo e provincia. Montorio crolla la montagna. Massi giganti sulla strada. La frana ha interrotto la provinciale 42. I tecnici non ci sono abitazioni isolate. In arrivo 200 mila euro dalla regione per mettere in sicurezza il territorio. Il consigliere Mauro Scarpantonio. Tempi brevi per l'avvio dei lavori. E di spalla allarme per il Tordino. Erode anche i piloni. Il fiume continua a danneggiare ponti e campi. I contadini. Sta portando via tutto. E poi ancora, sempre di spalla, Università e Carabinieri. insieme per la formazione interessante, la collaborazione con la parte veterinaria, eccellenza dell'Ateneo. Tornando alla cronaca, schiaffi e sputi al rivale Inamore. 56enne a processo. Domani in piazza Fosse Ardiatina, Giulianova, Campere Gazebo, a fianco delle donne vittime di violenza. E andiamo a chiudere con il messaggero, con questa apertura di pagina. Santoleri, arrestati padre e figlio. L'accusa è di omicidio e occultamento del corpo della pittrice Renata Rapposelli, madre di Simone ed ex moglie di Giuseppe. Il 43enne guardò la sentenza sul caso di Roberta Ragusa, la donna assassinata dal marito, in cui il cui corpo non fu mai trovato sotto, uccisa e tenuta in auto due giorni. Fondamentali le testimonianze della vicina, della farmacista e della titolare della palestra. Questa è appunto la ricostruzione degli inquirenti. L'ordinanza fa acqua, i legali preannunciano ricorso al tribunale del riesame. E ora andiamo a scorrere anche le pagine della città, il Quotinano della provincia di Teramo, che riparte appunto dalle elezioni, in particolare dagli eletti abruzzesi, con queste due pagine. Ecco tutti i 21 parlamentari abruzzesi con le foto e le didascalie appunto dei nostri rappresentanti a Roma. E poi c'è questo articolo, Antonio Barboni, un Terramano d'occa eletto in Romagna, militare dell'aeronautica in congedo, ha preso 105.000 voti con Forza Italia, nonostante viva a Rimini da sempre, l'unico parlamentare eletto, nato nel capoluogo a Prutino. Avanti ancora, l'unico onorevole Terramano sarà lui, scrive la città, Fabio Berardini da candidato sindaco a parlamentare dei Cinque Stelle, eletto alla Camera. La prossima settimana il Movimento Cinque Stelle svelerà il suo candidato sindaco per prendere anche il capoluogo. E poi l'analisi del voto di Ernesto Di Giovanni, la tempesta perfetta che si è abbattuta dappertutto. Avanti ancora, Morra, fatto fuori dall'effetto flipper, il leader regionale di Fratelli d'Italia è tecnicamente eletto, ma non ha seggio. Proseguiamo, siamo a pagina 7, Regione Forza Italia chiede di tornare al voto. E poi ancora, il giallo della pittrice, il marito e il figlio arrestati per omicidio, Giuseppe e Simone Santoleri, in manette dopo un blitz dei carabinieri, rinchiusi nel carcere di Castrogno. A incastrargli le telecamere e le testimonianze, l'inchiesta passa alla procura di Terramo. Ancora la politica, Tancredi ora resta fuori dalla politica. L'ex onorevole è rimasto fuori dal risultato dei petalosi nel centro-sinistra, si dice possibilista solo con gatti. Centro-destra e centro-sinistra, la gente ha mandato un messaggio molto chiaro prima del voto. Statemene a casa e io sono rimasto a casa. Proseguiamo con le notizie dalla provincia. Maxi Frana blocca la provinciale a Montorio. Massi ciclopici sulla carreggiata della provinciale 42, già stanziati 200 mila euro per i lavori. in somma urgenza a scatenare la pioggia di pietre e massi sulla provinciale. Sono state con molta probabilità le condizioni meteo, con neve e pioggia che hanno allentato la presa del terreno e innescato la mega frana. Ancora dalla provincia, siamo a Tortoreto, tassa di soggiorno solo durante l'estate. L'assessore Ripani presenta il regolamento e annuncia l'istituzione di un comitato turistico permanente. Tutti i proventi verranno destinati a cura del territorio. Manifestazioni di qualità, servizi al turista, promozione e pubblicità. Pagina 13, qui siamo a Giulianova. Un'altra analisi del dopovoto calata nel locale. centro-sinistra all'angolo dopo il voto. Anche a Giulianova sembra tramontare la fede degli elettori nei partiti. L'effetto delle politiche andrà a influire anche in vista delle prossime amministrative. E poi ancora a Roseto la cronaca Festini a base di Coca al Residence. A processo, tre accusati per spaccio di droga a Roseto, inchiesta parallela all'Aquila per prostituzione minorile. La provenienza, secondo le indagini, la droga rivenduta a Roseto degli Abruzzi arrivava direttamente dalla Puglia. E poi ancora, sempre a Roseto, Aloisi punta sul modello Zingaretti. Il segretario del PD cambia idea rispetto al comunicato sul voto e ammette la sconfitta elettorale. Sia il sindaco che Aloisi hanno voluto ringraziare gli onorevoli uscenti per il lavoro svolto per il territorio. Proseguiamo e siamo alla pagina della cultura. Se in un flash entra tutto un destino, la vita a pezzi, i racconti di Bruno Nacci, Cleste e O'Connor, le mie passioni. Andiamo alla pagina dello Sport. Eccola qui, Riecco Ventola. Il Teramo ritrova il pendolino. Due mesi di assenza e sabato già una prestazione super a Padova. Non pensavo di avere i 90 minuti. Le sonnero di Asta ha immeritato l'ex DS del Teramo, Giorgio Repetto, presentato a Pescara. Mi ha sorpreso le sonnero di Asta. In quel frangente non c'era bisogno di un ribaltone come quello fatto. E andiamo ora a vedere le pagine dello Sport, delle testate nazionali, prima di passare alle pagine locali e di vedere anche almeno un servizio, quello relativo alla presentazione di Epifani e Repetto. La gazzetta dello Sport, Let's Goal Juve. Chiaramente è un mercoledì di Champions. Ieri i primi verdetti con le qualificazioni di Liverpool e Real Madrid. Questa sera tocca la Juventus. Let's Goal Juve. Wembley 20.45 su Canale 5 con Di Bala. Riecco Higuain. Dopo il 2-2 di Torino bisogna eliminare il Tottenham. Sotto la testata Real, prova di forza. Ronaldo è un re anche a Parigi. Altro flop del Paris Saint-Germain. Zidane ai quarti. E poi ancora in basso a Stori. Aritmia nel sonno. L'autopsia sul capitano Viola. Omaggio dei compagni. Domani il funerale. Poi Tirreno Adriatico Show con Frum, Nibali, Dumoulin, Aru e Sagan. Oggi il via mai tanti assi. Il Corriere dello Sport. L'apertura. La legge del Real. Lampo di CR7. Poi Casemiro. Zidane elimina gli shake del Paris Saint-Germain. E vola ai quarti. Sotto la testata le parole del portiere dell'Inter Andanovic. Che si confessa al Corriere aspettando la capolista. Apparo il Napoli e l'Inter riparte. Poi ancora di spalla. Brividi a Londra. Juve all'assalto. Dybala e Higuain per fare la storia. Tutto sport che apre così. Juve suona il rock. Poi tanti richiami sul fronte Inter Milan. Torino. E poi il ciao capitano. L'omaggio a Davide. Lacrime e silenzio da parte della Firenze. che lo aveva adottato come suo capitano. Proseguiamo e torniamo sulle pagine dei quotidiani locali. Siamo sul centro con la presentazione del neo allenatore Epifani. Ecco qui Epifani avanti Pescara. Possiamo fare grandi cose. L'allenatore ho questa maglia attaccata sulla pelle e non ho paura. Sarei un bugiardo se dicessi che non sono emozionato. E poi in basso le parole del figlio al prodigo potremmo dire. Giorgio Repetto che torna nei quadri biancazzurri come direttore tecnico. Non avrei mai potuto rifiutare. La trattativa è durata due secondi. Sebastiani ci siamo chiariti da tempo. Per entrare nei playoff servono dai 63 ai 65 punti. Dice Repetto. E poi vediamo anche la notizia sul messaggero. Epifani si prende subito il Pescara. Ho questa maglia attaccata sulla pelle. Ringrazio Sebastiani per avermi scelto. Forse cambierò qualcosa rispetto al modulo di Zeman. Ma voglio vedere prima i giocatori. E poi inizia la decima di Repetto. Ce la giochiamo con tutti. Allora vediamo questo blocco di interviste con le parole di Massimo Epifani. Neolenatore del Pescara. Promosso dalla primavera. E il rientrante Giorgio Repetto. Massimo Epifani, nuovo allenatore del Pescara. E' anche il coronamento di un sogno, di un percorso professionale. Ma è anche un trampolino di lancio. Intanto le emozioni. Le emozioni dentro di me sono tante. Perché allenare la squadra della propria città. Dove hai trascorso tutta la tua carriera. Dal settore giovanile fino alla prima squadra. Penso che sia qualcosa di unico. Pensare che ho fatto tante trasferte da tifoso per questa maglia e oggi allenarla è un sogno. Però in questo momento ci posso pensare poco perché devo stare concentrato nel lavoro, nel cercare di fare il meglio possibile, di trarre il meglio possibile le capacità di questi ragazzi che ne hanno tanti. Si passerà dall'integralismo di Zeeman a una capacità di essere più elastici nella preparazione della partita. Ci sarà un'impronta ma ci saranno anche degli accorgimenti? Sicuramente l'impronta ci sarà. Non sono legato a un solo modulo. Sicuramente a un'identità sì. Poi in base alle esigenze, in base anche ai giocatori che avrò a disposizione settimanalmente, si fanno delle scelte, magari una diversa dall'altra, ma anche solo per caratteristiche. Il gruppo come lo ha trovato in queste prime due giornate di allenamento? Questa è la domanda, questa è la cosa più bella che mi stai domandando, perché mi hanno dato una grandissima disponibilità. dalla prima volta che ci siamo visti ieri in hotel. Sto vedendo grandissima disponibilità dei ragazzi, che questa è la cosa più importante che un allenatore può avere oggi. Gli ho chiesto di dare il massimo, di fare tutto, di tirar fuori tutto quello che hanno dentro, metto a disposizione la squadra, ma l'ho chiesto a tutti, anche quelli che in questo momento giocavano di meno, perché possono essere giocatori che possono servire alla causa. Direttore, intanto bentornato a Pescara. Grazie, sono tornato, vivo qua. Tornato professionalmente. Professionalmente, sì, dopo un paio di anni. Faccio inizio, credo, la decima stagione per il Pescara. Che cosa ha trovato nel vedere il primo allenamento? Devo dire che ho visto una bella disponibilità da parte dei giocatori. Lui è l'allenatore che ha avuto buone idee di come distribuire il lavoro tra i 25 e 26 giocatori, quindi mi ha dato una bella impressione. Ecco, c'è stato un divorzio con il Pescara, con il presidente Sebastiani, un anno e mezzo fa. Ora, tornate a lavorare insieme, come si è arrivati a questa ricomposizione? Ma guarda, abbiamo avuto questo problema circa due anni fa. Poi, Natale dell'anno scorso, siamo nel 2016, sei mesi dopo, ci siamo rivisti, ci siamo rincontrati, abbiamo rincominciato a parlarci e quindi, come dicevo prima, succede di avere delle idee diverse, di avere anche delle divergenze che possono arrivare anche alla lite e poi chiaramente nel tempo ognuno dei due, o in generale, dico non solo per noi due, credo che possa capire dove ha sbagliato e dove poteva avere un po' di ragione, ma sicuramente quando si litiga c'è sempre un po' di colpa da parte di tutte e due. E poi, ad ogni vittoria, sempre lo stesso poster, Nicola Mincone del Miglianico, la società che ha scoperto per prima le qualità del tecnico, perché Epifani ha iniziato ad allenare proprio nel Miglianico, dove aveva anche chiuso la sua attività agonistica. Sempre sul messaggero, vento alla talismano Teramo, il rientro dopo un lungo periodo d'assenza è coinciso con il successo a Padova. Bisogna battere la Santa Arcangiolese, il nuovo modulo studiato da Palladini mi avvantaggio, saranno disponibili Amadio e Varas, Panico è invece incerto. E poi sul fronte Serie D, Sieno, l'Aquila per i play-off, sono mancati i punti in trasferta, e poi ancora Arti Marziali, Odone Santucci campione italiano a Olbia per il basket, Lupusor preoccupa gli Sharks, per adesso lo teniamo a riposo, coach di Paolo Antonio fa il punto alla ripresa della preparazione. Sempre per la Serie D, Francavilla, problema del gol, Baba Yussef al torneo di Viareggio. E chiudiamo con un'ultima pagina del centro, eccola qui, tornando a parlare di Pescara, il ricorso di Giannascoli, Pescara, dubbi sui bilanci, la palla passa al giudice Mancinelli, l'ispettore incaricato dal Tribunale delle Imprese dell'Aquila per verificare i conti del club, Biancazzurro ha depositato la sua relazione, l'esperto ha ravvisato vane contestazioni indicate dal socio di minoranza, varie, pardon, contestazioni indicate dal socio di minoranza, ma Sebastiani è tranquillo. In basso, Ventola, il Teramo ha trovato l'amuleto, il terzino è rientrato dopo l'infortunio e il diavolo è tornato alla vittoria. Avanti tutta, dice Ventola, noi invece ci fermiamo con queste edizioni di mattino 6, la nostra rassegna tornerà domani mattina alle ore 8, vi ricordo gli appuntamenti con i nostri TG, con le edizioni principali alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e grazie anche a Claudio Di Giacomo in regia. Buona giornata. Buona giornata.